Arriva la prima gioia casalinga per la VL. Alla Vitri Frigo Arena, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si impone 96-92 sulla Bertram Tortona, ottenendo la terza vittoria della stagione, la prima in casa. Per i ragazzi di Buscaglia è stata un'importante reazione al precedente flop con Napoli. Una gara equilibrata in cui la VL rincorre gli avversari in un primo tempo che però chiude avanti 48-45. Male invece l'approccio del secondo tempo con un parziale di 14-0 degli ospiti che fa vedere le streghe. A scacciarle ci pensa un grande tambone, il sangue freddo di Visconti e un Mocchevicius salito di giri. Esulta la VL ma ora, dopo il caso Schilling, si interroga su un McCallum ai margini del gioco ed escluso dal decisivo rush finale. Nel basket di Serie B esulta anche l'Ital Service Loreto Basket che spugna il campo della Virtus Civitanova per 67-74. Dal basket al calcio in Serie C si ferma a 7 la striscia di risultati utili della Vispesero. La sconfitta arriva a Cesena ed è netta con un 4-0 che denota un approccio molle al cospetto di un avversario che si rivela d'altra categoria vincendo in scioltezza con due gol per tempo. Nel calcio a 5 prepotente riscatto dell'Ital Service Pesero che vince 3-6 a Ciampino. Dopo un primo tempo da 0-0 con pochi spazi è tutt'altra partita nella ripresa in cui Pesero va ad un clamoroso triplo vantaggio nel giro di 5 minuti grazie alle reti di Canal Andre Ferreira e Toni Dandell. C'è però la reazione di Ciampino che si riporta sul 2-3. Altro botte risposta con Schiochetti in gol in un 3-4 gonfiato dalla doppietta dello stesso Murilo e dal 3-6 definitivo di Vava. Arriva finalmente anche la sospirata prima vittoria stagionale della Fiorini-Pesero Rugby che al Tecnavul Park di Muraglia batte 16-15 il Valsugana Padova con una gagliarda rimonta nel secondo tempo dopo che i Veneti erano andati all'intervallo in vantaggio sul 6-10. Pesero va al sorpasso con l'unica meta giallorossa di giornata ma Valsugana replica con la stessa moneta. A decidere il match sarà un calcio piazzato che i Kiwi conquistano al trentesimo fissando il 16-15 finale. Nel volley altra sconfitta per la Megabox Vallefoglia che a Firenze perde in 3-7 contro la Savino del Bene Scandicci, una delle formazioni più attrezzate del campionato. Megabox che può però rammaricarsi per essersi fatta sfuggire il primo set 25-23 dopo averlo condotto praticamente dall'inizio alla fine. Scandicci poi ha vita più agevole nel secondo e terzo set vinti 25-14 e 25-21. La squadra di pistola torna comunque a casa con una prestazione onorevole al netto delle pesanti assenze di Mingardi e Mancini.